Io mi affido a te per ritrovare il calore di un abbraccio o di un bacio. Io mi affido a te per aiutare me e la mia famiglia a ritrovare l'equilibrio perduto insieme. Con uno spot sul tema dell'affido familiare, il Comune di Napoli dà il via ad un più ampio progetto di sostegno alla genitorialità per famiglie in difficoltà. L'obiettivo è quello di offrire temporanea ospitalità ai minori presso nuclei familiari che si prendano cura del loro mantenimento, oltre a fornirgli un'istruzione ed un'educazione adeguata. La legge c'è, esiste, la legge 184, però in effetti c'è la parte riguardante gli affidi che prevede, che fondamentalmente non è stata mai ben applicata, ben coniugata. È necessario che al Comune creiamo questo forum, questo grande contenitore dove le associazioni che hanno le famiglie, che hanno dato la loro disponibilità ad avere un bambino in affido, trovino un punto di riconoscimento e dove noi possiamo creare quindi una strada complementare e alternativa all'istituzionalizzazione. Bisogna lavorare tanto, lavorare insieme e anche non solo per i bambini piccoli, ma anche per i preadolescenti e gli adolescenti che hanno già chiara la loro identità, però hanno tanto bisogno di avere un circuito familiare più attento, più accudente, più responsabile. L'iniziativa presentata in sala giunta con l'assessore alle politiche familiari Giuseppina Tommasielli si avvalsa del sostegno dell'attore Riccardo Polizzi, che ha contribuito alla realizzazione del cortometraggio che sarà diffuso anche attraverso il circuito di Metro Napoli.